Se, ed un'altra collaborazione a sei mani per questo Reporti, minima non micro, masterpiece Il mercato del teatro è in recessione, Reporti lo sostiene con la recensione Dello spettacolo dal titolo, il colore è una variabile dell'infinito Parla di colui che ha inventato la lambretta e di più L'idrovolante Savoia Marchetti, il primo tipo di scatola nera E per la moglie inventò la rosa blu Parla della storia, vita, morte e miracoli di Pierluigi Torre Genio dei calcoli, che nel suo campo ha piantato paletti grossi Interpretato sul palco da Paolo Rossi Il senso della creazione è quello che l'artista trova al suo Desiderio di creare, desiderio di ricerca, di sperimentazione E di sorpresa per chi lo sta a ascoltare Questa qua è una citazione di Roberta Torre Nipote del protagonista Pierluigi Torre Artista, regista di cinema e teatro E di questa rappresentazione, punto e a capo Infatti, la scenografia era degna di una visual artist Purtroppo, la trama era intricata e strana in alcune parti Ma l'ingegnere Torre è uomo di cui vantarsi Che per riservatezza è rimasto fuori dai grandi Vedeva cose ancora prima che ci fossero E le inventava a servizio del prossimo Il pubblico teatro è in recessione Brutto quando in sala ci sono venti persone Reporti lo sostiene con la rap-censione E a rivederci alla prossima edizione Se, adesso è una battuta dallo spettacolo Ma se un idiota fa un salto di qualità Diventa più idiota o ritorna mediamente pirla? Umorismo da scienziato Questo qua è reporting Ciao bambini